Una volta, quando eravamo giovani, ad un pubblico così facevamo Gino, 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 siamo a casa. Gino, 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 siamo a casa. Tutti se senti cercano la palliera Fullaes cosa tive a camного mercolKY Fatale a camúblico Fatale a cam ABS Fatale a camminare Alacala cala Caamaci Emanna cala Argentina acking, packing, packing all the time. Trafalamlabo oloooarma Trafalamlabo olama Ma cos'è rimasto? Succerissimo Giorgio! Giorgio! Grazie! il blues o jats se non ti ascono, non ti ascono, non ti ascono metti subito lui no, c'è solo questa questa la 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti